Benvenuti in questo nuovo video, parliamo sempre di correzione, imparare appunto a correggere un testo e soprattutto a imparare dalle correzioni è fondamentale. Oggi ci sono anche degli strumenti come CiaGTP e DIPEL che vi possono aiutare nella correzione, ma l'idea appunto è quello sempre di imparare, perché non è farsi correggere i testi l'obiettivo, ma è quello di capire che cosa si sbaglia per cercare appunto di non più fare questi errori. Quindi i due strumenti che adesso vedremo, CiaGTP e DIPEL, a confronto, possono essere utili appunto in questa fase appunto di apprendimento. Vedremo quindi come imparare appunto a gestire gli errori che si fanno quando si scrive, per esempio tenendo un diario degli errori. Ecco, io faccio ottenere normalmente questo diario, lo chiamo Mind Attribution Failure, metto nome, cognome, classe, anno, e poi appunto faccio annotare le frasi che si sbagliano normalmente quando si fanno gli esercizi o quando si scrive. Ecco, nel mio diario potrei appunto ottenere delle statistiche, degli errori, magari usando anche dei colori, errori di sintassi, errori di morfologia, poi spiegherò tutte queste categorie bene una per una. Ma insomma, serve proprio per cercare di fare una statistica per capire quali tipi di errori sto facendo per non più farli. Concretamente poi, si terrà sempre nel quaderno della statistica, si creerà appunto una tabella con tre colonne, metterò nella prima colonna la frase sbagliata, in questo caso è un errore di negazione, vedete, ho usato il nicht al posto di kein, qui sarebbe kein al plurale, poi scrivo la versione corretta nella seconda colonna, diciamo kein Freunde, e nella terza colonna devo spiegare appunto, o metto la categoria o spiego anche in italiano, verbalizzando quindi che cosa ho sbagliato. La negazione è una parola senza articolo, è sempre kein o keine e mai nicht. Quindi devo formulare proprio con mie parole, perché devo averla capita. Ecco, questo si fa creando appunto delle categorie, in questo modo alla fine, dopo un po' di tempo, si può riguardare effettivamente, vedere se ci sono meno errori nei propri testi, grazie anche a questo sistema appunto del diario degli errori. Le categorie sono syntax, la sintassi. La sintassi è molto importante in tedesco, perché la struttura tedesca non è come quella italiana, sapete che i verbi ogni tanto sono in fondo alla frase, ci sono i verbi separabili con le loro particelle, ci sono i complementi che non hanno lo stesso ordine come in italiano, i verbi appunto hanno l'inversione, eccetera, eccetera, quindi bisogna fare attenzione appunto alla sintassi, in particolare alla struttura della frase, a come sono messe le parole nella frase, detto in maniera molto semplice, quindi syntax. Poi abbiamo un altro tipo di errore, che chiameremo bezuk. Ogni tipo di riferimento, io uso per esempio un sinonimo, uso un pronome per non più ripetere il nome. Ecco, se per esempio abbiamo un nome femminile, dovrò utilizzare poi un pronome si, sia un oggetto, dovrò utilizzare il pronome relativo appunto a quell'oggetto. Ecco, ci sono riferimenti sia grammaticali, ma sia ellissicali. Poi vedremo alcuni esempi di questa categoria. Poi abbiamo errore di worcciaz, quindi uso una parola sbagliata, perché in italiano magari questa parola ha un altro significato, e sbaglio. Per esempio bezium significa relazione, il ragazzo cerca nel vocabolario la parola relazione, trova bericht, però bericht non è una relazione tra persone, è una relazione scritta, un rapporto per esempio di polizia, che qui non c'entra niente, non posso dire ich habe einen guten Bericht zu meiner Mutter, devo dire ich habe einen guten Beziehung zu meiner Mutter. Quindi errore di lessico, worcciaz. Poi abbiamo quello che io chiamo errore di grammatica, grammaticali, qui rientra più o meno tutto, quello che riguarda grammatica, ma si può anche qui differenziare, per esempio morfologhia, con morfologia, la morfologia quindi sono tutti quegli errori di declinazione, di femminile, maschile, neutro, quindi per i generi, di casi, nominativo, accusativo, insomma la declinazione degli articoli, dei nomi, dei pronomi, degli aggettivi, dei dimostrativi, dei possessivi, e qui è una bella categoria in tedesco, quindi problema di declinazione potremmo dire. Poi abbiamo quello che riguarda sempre per la grammatica la coniugazione dei verbi, zeit, i tempi, modus, quindi il modo congiuntivo tedesco, il congiuntivo 1, il congiuntivo 2, e non l'avete ancora fatto. Poi abbiamo il mondo delle preposizioni, e questo è un mondo purtroppo molto impegnativo per il tedesco, con i loro casi, con i loro usi, e poi adesso qui ho messo un altro esempio, la particella zu per quanto riguarda i verbi, a volte appunto voi sapete che l'infinito è compagnato da questo zu, ma non sempre, quando, ecco. Queste sono alcune categorie che appunto fanno parte della grammatica, che sono spesso appunto errori presenti nei testi. Poi abbiamo la rechreibung, l'ortografia tedesca, il maiuscolo, il minuscolo, eccetera, eccetera, no? Quindi tonghi con i, e, o i normali, e chi più ne ha, chi più ne mette, insomma. E poi abbiamo anche la punteggiatura, di zeichenzetzung, o interpunzione, due punti, la virgola, coma, semicolone, eccetera. Partiamo dagli errori di Syntax, la pronuncia è Syntax, Syntax, di Syntax. Abbiamo detto di Satstellum, la posizione delle parole nella frase. Dovremmo dire normalmente Satz Gliederstellung, però è più complicato, la posizione dei complementi all'interno della frase. Quindi posizione delle parole, rendiamolo molto più semplice, abbiamo il soggetto, il predicato, i complementi. Qual è l'ordine di queste parole, no? Ecco, qui possiamo fare appunto degli errori. Dov'è il verbo in tedesco? Ecco, qui abbiamo una frase sbagliata, da se si è terfalchesat. Ecco, l'esercizio, voi adesso qui provate a correggere e mettere il verbo al posto giusto. E poi andando avanti scoprirete appunto la soluzione. Ecco, abbiamo adesso la nostra frase sbagliata, ecco, qui abbiamo una domanda indiretta. un'interrogativa indiretta. Jetzt frage ich mich. Adesso mi chiedo. Quando mi chiedo in maniera indiretta e poi ho un wann, quindi una domanda indiretta, in tedesco abbiamo una subordinata. Qui dobbiamo mettere questo verbo alla fine della frase. Quindi wann, Lucas, begann? Abbiamo qui il nostro verbo alla fine, ma non alla fine, alla fine, perché poi abbiamo ancora una frase infinitiva con su, vedete? Ecco, quindi non andrà alla fine di tutta la frase, ma prima della frase infinitiva. Eh, sembra complesso, effettivamente. Jetzt frage ich mich, wann Lucas begann? Quando Luca iniziò, e poi abbiamo la frase infinitiva. Di norma, è sempre così. Quando inizio abbiamo tante subordinate, prima si finisce una subordinata e poi se ne aggiunge un'altra. Solo relative posso interrompere, appunto, delle parole e poi, appunto, andare avanti. Ecco, però, se abbiamo le altre subordinate, causali, temporali, eccetera, dovete prima finirne una e poi iniziarne un'altra, così non sbagliate. Ecco, vedete, quindi, Jetzt frage ich mich, wann Lucas begann? E poi abbiamo la frase infinitiva. Quindi prima la subordinata, la domanda diretta, l'interrogativa indiretta, il nostro verbo begann, e poi la frase infinitiva con su. Quindi, attenzione, il verbo coniugato precede, quindi, la frase infinitiva e non è pertanto alla fine della frase infinitiva. Questo è molto importante, perché poi voi me la mettete sempre tutto in fondo. Quindi, ah, devo andare in fondo. Eh, purtroppo, in fondo, però, la sua frase, la sua frase, appunto, interrogativa. Adesso vogliamo vedere se i nostri due traduttori, Chaggitipi e Dippel, sono in grado di correggere questa frase? Vediamo. Abbiamo, appunto, la nostra frase sbagliata. Il primo traduttore, vediamo, la frase corretta, secondo lui, è Jetzt frage ich mich, wann Lucas angefangen hat, anwager sucht zu leiden. Va bene. Ha usato il perfect, invece del preteritum, però, effettivamente, il verbo l'ha messo al posto giusto. Quindi diamo pure un visto. Bravo, Dippel. Per quanto riguarda Chaggitipi, Jetzt frage ich mich, wann Lucas. Ecco, qui lui effettivamente mette il verbo tutto in fondo, che quando poi la frase diventa un po' più lunga, non funziona. Quindi, mi dispiace, 1 a 0 per Dippel. Bene, vediamo un altro esempio di errori di sintassi. Tassi, Wenn mein Freund krank wäre, qui abbiamo un errore di posizione, appunto, della principale. Abbiamo la subordinata, Wenn mein Freund krank wäre, se il mio amico fosse malato, e poi dovremmo fare l'inversione. Quindi, Würde ich helfen, non ich würde, perché la principale, dopo la subordinata, ha sempre l'inversione. Sempre verbo, verbo, eh? E quindi dobbiamo mettere Nebensatz plus Hauptsatz. Vediamo ora i due traduttori, se riescono, appunto, a correggere correttamente questa frase. Parliamo da Dippel, che corregge in questo modo. Würde ich helfen, perfetto, quindi un punticino anche per Dippel. E vediamo ora, ça, GTP, Wenn mein Freund krank wäre, Würde ich helfen, perfetto, un punticino anche per lui. Quindi, a questo punto, siamo a due punti per Dippel, e un punto, finalmente, anche per Cia, GTP. Ecco che abbiamo un'altra frase sbagliata, provate, appunto, a correggerla. Riguarda ancora, appunto, la sintassi, quindi la posizione degli elementi dentro della frase. Man sollte sich helfen suchen. Vedete già che abbiamo due congiunzioni. La frase corretta è, allora, man sollte sich helfen suchen e poi abbiamo il weil. Quindi il weil richiede, appunto, la struttura della frase subordinata, soggetto con il verbo alla fine, weil die maghe, zuck so gatt, ed il sein kann, e poi abbiamo il wenn, con il suo soggetto, con il verbo alla fine. Quindi deve essere corretto in questo modo. Quindi ricordatevi, weil, la subordinata, più wenn, e poi un'altra subordinata. Quindi, evitare in tedesco di mettere weil e wenn vicino, perché appunto non funziona, sono quindi da evitare in tedesco le doppie congiunzioni. c'è un'unica possibilità e quella di usare denn, wenn, per evitare il problema, appunto, che abbiamo visto prima, quindi qui si può fare, però appunto dopo la struttura è un po' diversa. Man sollte sich hilfe leist, denn, e poi inseriamo, appunto, la nostra subordinata con denn, wenn man nicht unter dem, e poi abbiamo un'inversione, perché normalmente denn è ad uso, ma in questo caso, avendo occupato il primo posto, come mettere un avverbio, dobbiamo poi fare l'inversione. kann die Magel such so gar tölich sein, ma come vedete è complicato, quindi usate tranquillamente la prima versione che abbiamo proposto. Vediamo ora come Dippel e CiaGDP risolvono il problema. Allora, CiaGDP, man sollte sich hilfe suchen, denn, wenn man nicht unter demt, kann die Magel such so gar tölich sein, denn, ecco qui, migliora ulteriormente la frase cambiando il verbo, mettendo tödlich enden, però tödlich sein non è sbagliato, quindi diamo pure il punticino, e CiaGDP vediamo, man sollte sich hilfe suchen, denn, wenn man nicht unter demt, kann die Magel such so gar tödlich sein, ecco, questa è come la nostra, quindi va bene, quindi ognuno riceve un punto, quindi a questo punto siamo a tre per Dippel e a due punti per CiaGDP. ecco, vediamo adesso la prossima frase sbagliata, provate anche qui a appunto correggere sempre errore di posizione, a Prisenkammanzagen, poi abbiamo un das, poi abbiamo una frase finale, ecco qui c'è già questo problema, forse l'avete visto, non è stata terminata la frase con il das, abbiamo visto già nell'esempio precedente, bisogna finire una frase e poi aggiungiamo un'altra frase, questa è la regola di base, quindi la frase corretta diventa Prisenkammanzagen, das, soggetto, das man zum hat's gehen muss, qui abbiamo messo il nostro verbo alla fine, e poi aggiungiamo la finale, prima era l'infinitiva, vi ricordate, adesso dobbiamo aggiungere una finale, ma nello stesso principio, um diese Krankheit zu überwindere, quindi abbiamo la nostra subordinata con das, con il verbo alla fine, ma la fine della sua frase e poi abbiamo um zu, quindi, prima la subordinata con das e poi si aggiunge la frase finale con um zu. Regola di base che ripetiamo ancora, si consiglia generalmente di aggiungere una frase subordinata soltanto dopo aver terminato quella precedente, in tal modo si eviteranno gli errori, questo vale sempre, l'unico caso in cui si può interrompere una frase è la relativa, altrimenti non fatelo, quindi finite una subordinata e poi aggiungetene quante ne volete, ma finitele, non vi dimenticate e poi i verbi non vanno al posto giusto. Vediamo come risolvono il problema Dippel e chiaramente il verbo alla fine e poi mette in infinitiva come abbiamo detto, quindi bene visto. Cia GTP ha più in Kammanzagen das, ecco, Cia GTP purtroppo fa quello che non deve fare, poi mette un man messo là così, ecco, sarebbe meglio non farlo, infatti non gli diamo il punto, quindi abbiamo 4 per Dippel e ancora 2 punti per Cia GTP. Ecco, vediamo ora un'altra frase che contiene un errore, abbiamo una frase con il das e poi abbiamo un und che va avanti, ecco, vediamo il problema, qui il problema è che la frase corretta abbiamo due subordinate, in pratica ich habe gelesen dass Lukas schwul ist, questa è la prima frase appunto subordinata e poi c'è un und che sottointende ancora und das ihr an magesucht leidet, quindi è come se ci fosse, cioè, c'è ancora, ma è solito inteso, un das ihr e quindi dobbiamo mettere ancora una volta il verbo alla fine, quindi quando abbiamo un das e abbiamo due informazioni, io ho letto che in questo caso devo mettere due volte il verbo alla fine perché altrimenti commetto appunto un errore. Vediamo come, ecco, qui la regola appunto se si aggiungono due o più informazioni dopo das, quindi che sono collegate a ich habe gelesen das, la frase è comunque subordinata, quindi due volte il verbo alla fine della rispettiva frase e poi das il soggetto non viene ripetuto. Vediamo come risolve il problema Dippel. Allora, Dippel diciamo come so vede fa anche delle alternative, no? ich habe gelesen dass duke schwul ist und ein mages uchleidet. Bene, e poi nelle varianti ecco, la separa proprio, mette un punto e ricomincia oppure la gira, ecco, comunque funziona. C'ha GTP, ho già dato il visto, anche se mi scrive questa cosa un po' particolare che potrebbe violare la nostra pulica sui contenuti, mi dice, ma in realtà è una frase scritta, è un riassunto di un articolo giornale che ha scritto un allievo quindi non si, ecco, a volte esce questa cosa con Cia GTP se appunto si parla di tematiche o di temi sia etici che possono riguardare la sessualità, ecco, assolutamente arriva questa frase. In realtà stiamo appunto parlando di un riassunto di un articolo giornale fatto da un allievo che parla appunto di questo Lucas che è omosessuale quindi qui effettivamente questa politica sui contenuti non si capisce bene come mai ma insomma probabilmente ha dei filtri particolari. Ecco, quindi un punto anche qui per entrambi quindi siamo a 5 per Dippel e a 3 punti per Cia GTP. Prossimo errore di sintassi è sempre sintassi molti errori sono appunto errori di sintassi. Allora, vediamo la frase Dessalp ist ihr sempre questo Lucas zum Psychiater gegangen e poi abbiamo un und. Ecco, attenzione, quando abbiamo un und, come si corre, provate voi a correggere, ecco, quindi, quando abbiamo un und e abbiamo precedentemente un desalp si ricomincia, quindi è ancora posizione 0 come si dice in tedesco, posizione 0 quindi ad uso queste 5 congiunzioni aber, den, und, sondern e ud 5, ad uso, questa è la sigla che le richiama, hanno appunto questa struttura soggetto-verbo quindi essendo il soggetto lo stesso si può anche tralasciare quindi und erat o semplicemente und hat hilfebekommen ha ricevuto aiuto. Quindi, Dessalp chiede l'inversione ma dopo und abbiamo la posizione 0 vale a dire si ricomincia con la frase la frase con il soggetto seguito dal verbo quindi è soggetto-verbo in questo caso va comunque omesso il soggetto perché è lo stesso ecco, è meglio lasciarlo via se è lo stesso effettivamente ma se lo mettiamo effettivamente soggetto-verbo non verbo-soggetto non c'è inversione con un vediamo Dippel Dippel ecco Dippel mette al preteritum il verbo va bene Dessalp chiede sono psichiatra l'abbiamo accettato un become it ha messo tutto il preteritum però va bene quindi diamo il visto c'ha GTP Dessalp istestum psichiatra di Gangen und hat hilfebekommen perfetto ha lasciato come ho fatto io al perfect e non ha fatto e ha corretto l'errore diciamo dell'inversione qui non c'è inversione con un benissimo quindi anche qui un punto per Dippel ecco qui io adesso non ho dato il punto ma il punto c'è no certo adesso cambiamo la categoria dell'errore parliamo di bezu bezu vuol dire riferimento quindi quando ci si riferisce a qualcosa può essere un pronome sbagliato può essere qualcosa che manca no? un riferimento sintattico lessicale allora vediamo subito questo esempio nella frase sbagliata da stima interessiert michsir e poi abbiamo un while e poi abbiamo qualcosa che manca provate voi a mettere quello che manca poi abbiamo anche una ripetizione ma magari trovate la soluzione allora qui manca a parte la ripetizione di tema che quindi non andrebbe formulato in questo modo da stima interessiert michsir while poi manca il soggetto questa frase non ha il soggetto quindi il soggetto in questo caso is ecco while is e poi dobbiamo mettere potenzialmente l'aggettivo non più il tema lasciamo via while is interessant ist ecco da stima è is quindi while is actual ist while is interessant è quello che volete voi ma comunque while is il soggetto è obbligatorio ma non while is in actual stima is sarebbe appunto ridondante mettiamo subito while is riprende da stima e quindi is è il nostro soggetto che è obbligatorio quindi ricordate che il soggetto in tedesco è obbligatorio soprattutto nella fase subordinata si può lasciare via solo quando c'è un unce nella principale che è lo stesso ma nella subordinata in tedesco il soggetto è sempre obbligatorio non va mai sottointeso come in italiano is is quindi ha il soggetto obbligatorio vediamo come risolvono il problema di per HGPT da stima da stima interessi mixir while is actual is esatto oppure mette un punto e ricomincia appunto da anche alternative va bene punticino bene per quanto riguarda HGTP vediamo la proposta da stima interessi mixir while is ecco qui effettivamente non lascia la ripetizione e quindi non gli diamo il punto quindi zero punti per questo esercizio quindi siamo a 1 2 3 4 5 6 7 per DIPL e 1 2 3 4 per HGPT ecco la frase da correggere siamo sempre nella categoria bezu quindi si fa riferimento a qualcosa della frase provate a correggerla la frase è questa er zu studieren begann er krankte Lukas an Magersucht quindi il nostro Lukas il protagonista di questo articolo di giornale nei testi scritti dagli allievi ecco qual è il problema qui il problema che uso un er ma dovrei usare prima Lukas nella prima frase nella frase subordinata e poi posso riprenderlo con er qui invece l'allievo ha messo un er e poi ha messo una principale Lukas questo quindi l'errore als Lukas alsteriung è quello che volete insomma su studieren begann er krankte ihr an Magersucht quindi prima il nome il sostantivo quello che vuole e poi il pronome il pronome è appunto la funzione di riprendere il nome non il contrario vediamo i nostri traduttori allora dippel dippel alsteriung 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 ecco no vedete non lo corregge quindi lascia il pronome quindi no mi dispiace di per questa volta non ci siamo rimani a 7 vediamoci c'è GTPT passa in vantaggio e no neanche lui purtroppo non non mette il nome corretto nella subordinata all'inizio siamo sempre a 7 a 4 per dippel andiamo avanti vediamo appunto che in questa frase abbiamo un altro problema di bezu quindi di riferimento ecco ven man magersüchtig ist e poi c'è questo pronome nella principale che non è corretto quindi se abbiamo man dobbiamo riprendere con man man non è mai er questo è l'errore tipico che fanno i ragazzi ven man magersüchtig ist siet man sich selbst mit anderen augen qui ho dimenticato un ti mit anderen augen comunque man man quindi man non si riprende con er ecco se vogliamo riprenderlo se vogliamo usare er dobbiamo mettere un altro soggetto nella prima frase per esempio wenn jemand magersüchtig ist sieht sich selbst mit anderen augen se qualcuno è anoressico si vede appunto con altri occhi vediamo come dippel risolve il problema ecco man riprende con man perfetto quindi siamo a 8 punti per dippel c'ha gdp vediamo ecco man man anche lui quindi guadagna un punto arriviamo a 5 punti anche per c'ha gpt nuova categoria categoria lessico vor chads vediamo appunto nella categoria lessico quindi scelta lessicale quindi le parole come vengono scelte appunto all'interno del testo a volte si sbaglia appunto a scegliere una parola un vocabolo magari si cercano un po' nel vocabolario poi si sceglie quello sbagliato che non va bene il contesto allora frase sbagliata questa lucas ist dünner e poi l'allievo scrive worden qui c'è questo problema di questa parola in realtà è il verbo che ha sbagliato a coniugare però è la parola che sbaglia perché ci sono due forme per quanto riguarda il perfect di verden c'è geworden e c'è worden purtroppo l'allievo ha scelto quello sbagliato avrebbe dovuto scegliere geworden lucas ist dünner geworden è diventato appunto più magro ecco avrebbe dovuto usare worden nel caso di una frase passiva quando appunto abbiamo il perfect passivo quindi il libro è stato letto mentre il participio di verden quindi il verbo verden è sempre geworden ma soltanto al participio passato vediamo come i traduttori risolvono il problema di per lucas ist du geworden quindi un punto arriviamo a 9 c'è gtp anche lui un punto benissimo quindi siamo a 9 a 6 ecco questo è un altro tipico errore di lessico alla fine l'allievo vuol dire per finire ecco e usa questo endlich probabilmente pensando ancora all'inglese invece di usare abschließen o zum schluss allora la frase appunto corretta dovrebbe essere zum schluss o abschließen möchte ich sagen das e poi rimane tutto uguale ecco dipel dipel corregge correttamente con abschließen adesso corregge anche chiaramente la est set perché è corretto in germania poi vedo che cambia anche no non cambia niente rimane tutto uguale quindi ecco vedo sotto che ha diciamo dato anche delle alternative quindi siamo a 10 punti per dipel per cia gtp vediamo che ecco no cia gtp purtroppo non ha corretto correttamente ecco a volte capita che sbaglia poi io gli chiedo ma sei sicuro e poi ci ripensa e dice è corretto vedete in un secondo tentativo mi dice che è corretto ecco diciamo che qui io gli do solo mezzo punto perché al primo tentativo non c'è stato quindi siamo a 10 punti per dipel e soltanto mezzo per cia gtp cia gtp ha il vantaggio che quando sei diciamo insicuro li puoi fare la domanda e poi ci riflette e poi discutere però non sempre diciamo funziona ecco un altro tipico errore che i ragazzi e le ragazze fanno è quello di usare in tedesco jungen perché vogliono dire giovani adesso in tedesco ci sono diverse parole per dire giovani c'è la parola die jungen menschen c'è la parola giovani die jungen oppure jungen un mädchen ecco ma jungen da solo in tedesco vuol dire ragazzi di sesso maschile quindi quando dico ich glaube dass immer mehr jungen von dieser krankheit betroffen sind ecco qui l'allievo so che voleva dire giovani non soltanto maschi ma anche ragazze chiaramente qui io so cosa vuol dire quindi li posso correggere con immer mehr jungen menschen jugendliche si declina come un aggettivo quindi attenzione è un aggettivo sostantivato der jungen invece fa parte della endeclinazione quindi prende la n a tutti i casi cioè il nominativo maschile però qui non si parla di jungen ma di jungen menschen quindi giovani in generale vediamo come di per risolvere il problema evidentemente non lo può sapere perché dice che grammaticalmente la frase è giusta effettivamente potrebbe potrebbe è grammaticalmente giusta non può sapere cosa vuol dire l'allievo e quindi non posso dare il punto ma nemmeno cia gtp lo sa fare quindi ich glaube das immer mehr jungen von dieser kranken betroffen sind grammaticalmente sono due frasi corrette ma non è quello che vuol dire l'allievo ma non lo possono sapere quindi non do nessun punto a nessun delle due ecco in questo caso per una volta cia gdp però mi consente di porre delle domande infatti io potrei vedete posso diciamo chattare con cia gtp e se ci fossero anche ragazze non va più bene jungen hai ragione se ci sono anche ragazze coinvolti jungen non è la parola più adatta e poi mi propone diciamo young manager poi se dico giovani ragazzi e ragazze diciamo che con cia gtp posso arrivare insieme alla soluzione vedete chattando praticamente sto chattando con una macchina ma che mi sta aiutando appunto nel redigere poi il testo quindi alla fine arriviamo quindi a questo punto do un punto a cia gtp per questa diciamo cosa in più che mi offre ecco un altro errore di lessico un allievo scrive siate irenfreund gelassen lei ha lasciato il suo ragazzo e sbaglia perché non è il verbo giusto dovrebbe dire ferlassen e non gelassen e quindi la frase non è corretta quindi il verbo ferlassen è quando si lascia qualcuno ferlassen al passato prossimo ecco qui abbiamo irenfreund vor der zurichelassen non era quello che voleva dire e anche qui non no qui invece cia gtp qui guadagna un punto quindi qui abbiamo zero punti per dipel e un punto per appunto cia gtp ecco qui abbiamo un'altra frase appunto dove abbiamo il verbo bekommen ma è usato in modo sbagliato infatti l'allievo intendeva diventare quindi doveva usare il verbo verde nel preterimo e vor der krank ecco ricordatevi che verde significa diventare invece bekommen ricevere quindi bekommen kind non riceve appunto la paghetta vediamo come i traduttori riescono a correggere la frase dipel hervurde krank quindi un punto arriva a 11 cia gtp anche hervurde krank quindi arriviamo a 9 e mezzo provate ora a correggere questa frase ich möchte mit dir viel Zeit puntini puntini la correzione è questo verbo evidentemente non si dice passen se voglio dire trascorrere passare nel senso trascorrere ma si dice verbringen passen c'è il verbo passen su andare bene star bene essere abbinato ma evidentemente non si può usare in questo contesto dipel ich möchte viel Zeit mit dir verbringen mi dà addirittura il sinonimo ich wünsche mir dass ich viel Zeit mit dir verbringen kann ich möchte ich will viel Zeit mit dir verbringen quindi un punto cia gtp la frase ich möchte viel Zeit mit dir verbringen anche un punto quindi siamo 12 per dipel e 10 e mezzo per cia gtp abbiamo sempre un altro errore sempre di scelta lessicale oppure di parole che vengono dall'inglese potremmo dire perché questo allievo appunto fa tanti errori di questo tipo di mechiner kranken e poi usa questa parola che non esiste in tedesco scritta in questo modo avrebbe dovuto scrivere oft molto più semplice solo tre lettere oft c'è anche hoefik ma è più difficile ma oft è facile quindi attenzione a non confondersi con l'inglese in tedesco si dice oft o ft tra lettere facile oft ecco cia gtp corregge correttamente usando l'espressione hoefik poi magari quando l'allievo guarda non sa che può usare anche oft perché nelle alternative non la dà vediamo cia gtp se dà l'alternativa ecco usa oft e quindi a volte è utile usarle entrambi così almeno uno può confrontare vedere appunto quindi siamo a 13 punti per dippel e a 11 e mezzo per cia gpt ecco alcuni allievi fanno questo errore adesso qui ho copiato solo un pezzettino della frase perché era più lunga ma l'errore appunto di questo un manzolte il fesugane chiaramente non è questo man perché man vuol dire uomo man con due n ma è il pronome il pronome è la terza persona che evidentemente man man minuscolo man maiuscolo solo all'inizio della frase ma se c'è un un chiaramente minuscolo è il pronome impersonale e c'è sempre la terza persona singolare quindi si scriva man sempre con la minuscola eccetto chiaramente inizio frase e il verbo in tedesco è sempre soltanto la terza persona singolare sempre anche in italiano anche se in italiano abbiamo a volte il plurale solo appunto il singolare allora vediamo un po' c'ha gtp un manzolte il fesugane quindi minuscolo correttamente 13 punti finora c'ha gtp abbiamo un manzolte il fesugane quindi siamo a 11 e mezzo ci sono poi anche gli errori grammaticali di grammatic quelli della grammatica sono tantissimi ne rendo conto ma purtroppo il tedesco ha le declinazioni i casi i tre articoli un sacco di plurali quindi si possono fare veramente tanti errori ecco partiamo dalla morfologhi cioè da quei problemi di morfologia che quindi riguardano la declinazione di articoli di pronomi di aggettivi di dimostrativi di possessivi ci sono i casi ci sono i quattro casi un attivo accusativo un attivo genitivo ci sono i numeri quindi singolare o plurale ci sono i generi maschili e femminili neutro ci sono le varie declinazioni quella della n la s al genitivo la s la n quindi forte o debole poi c'è insomma qui si possono fare tanti errori quindi è una categoria importante declinazione potete chiamarla declinazione in maniera facile se volete e mettere tutto quindi declinazione come in questa frase sbagliata ecco non è così evidente questo dice ma cavolo ha messo l'articolo giusto a mechen però purtroppo purtroppo c'è questo verbo helfen anche se la frase è al passivo vedete la frase corretta deve essere demmechen mustegeholfen ecco è una frase passiva perché in realtà con helfen posso fare anche la frase passiva ma trattandosi di un verbo intransitivo appunto non ho il complemento oggetto e quindi userò il dativo rimane al dativo ecco chi non non si ricordasse può guardare appunto il video sul passivo c'è proprio un video che parla proprio di questo per i verbi intransitivi cosa fare appunto l'uso di es ecco potevo anche dire es muss demmechen geholfen verne se la facevo attiva probabilmente non sbagliavo man muss demmechen helfen perché helfen vuole il dativo e poi prendendo questo demmechen che appunto non va non diventa soggetto abbiamo il dativo e beh questo è un errore tipico che si fa abbastanza spesso con i verbi intransitivi al passivo ecco vediamo come risolvono il problema i nostri traduttori correttamente demmechen mustegolfen verne quindi mette il dativo quindi siamo a 13 per quanto riguarda no 14 per quanto riguarda dippel e anche per cia gdp quindi 12 e mezzo ecco qui lo vedete meglio che si tratta di un dativo di helfen qui è la frase attiva qui l'allievo ha dimenticato la n del dativo plurale al dimostrativo diese qui la frase dovrebbe essere i helfen diese menschen queste persone al dativo vediamo appunto ricordatevi helfen più dativo come anche duncan drawen schaden gefallen schmecken ecco dippel corregge correttamente quindi 15 punti per dippel bene ma anche per cia gdp quindi 13 e mezzo ecco provate a trovare l'errore in questa frase dell'article annen von lucans e poi c'è questo errore sottolineato einmann aus basel qui abbiamo un errore di che tipo è un errore di apposizione che cosa è l'apposizione è una frase che viene aggiunta per esempio a un nome ma anche a un sostantivo che dà informazioni supplementari e va in tedesco nello stesso caso di quello che precede quindi avendo la frase dell'article annen von lucans che è un dativo perché c'è il fon anche quello che sembra andrà tutto al dativo quindi avremo einmann e non è nominativo come in italiano quindi avremo apposizione nello stesso caso era un dativo andrà un dativo nominativo nominativo accusativo accusativo genitivo genitivo insomma stesso caso vediamo se cia gdp ha trovato l'errore certamente ha coniugato declinato meglio perché è un articolo correttamente l'articolo indeterminativo einmann e quindi abbiamo 16 punti finora e cia gdp anche un punto quindi 14 e mezzo 16 a 14 e mezzo e anche qui c'è un errore uno dice ma che adulte è femminile quindi sarà i e purtroppo no perché perché c'è una regola file e veni si dice che non solo al plurale al singolare non si declinano quindi la frase deve essere ich habe viel geduld ho molta pazienza in italiano invece si declina quindi file wenig si declina non soltanto al plurale quindi viel geduld al singolare sono invariati ich habe viele freunde wenige freunde qui è plurale vediamo i nostri amici traduttori evidentemente un punticino 17 quindi per dippel finora e cia gtp ich habe viel geduld isti correcte formulierung bene quindi un punticino anche per cia gtp siamo a 15 e mezzo per cia gtp e 17 per dippel la prossima categoria è la categoria delle preposizioni ecco le preposizioni purtroppo sono un capitolo ostico della lingua tedesca vediamo la frase contenente un errore provate a correggere questa frase di krankheit is puntini puntini ecco la preposizione zuischen vuol dire tra però non è tra tra le ragazze non si può dire tra le ragazze è diffusa tra le ragazze dovrei usare l'altra preposizione che vuol dire sotto in realtà unter però quando sono più di due si usa unter questa dovrebbe essere appunto la la distinzione quindi tra due persone oltre a due cose si usa appunto zuischen e più di due devo usare unter questa è la distinzione che viene fatta quindi zuischen paolo un petro sono due persone con il dativo di posle zuischen droschule und empano sono due cose due edifici in questo caso appunto si mette zuischen ma se è tra le ragazze dovrò dire zuischen anche qui il dativo perché ho appunto il verbo fairbrite poi non si vede perché ha il dativo ecco dippel abbiamo unter ha corretto correttamente quindi arriviamo a 18 cioè gtp arriviamo a 16 giusto 16,5 perché appunto è giusto anche per lui un altro errore con le preposizioni ich geh oft purtroppo non è bei einem psychiater ma bisogna dire ditelo voi bravi ich geh zu einem psychiater zu perché vado verso una persona quindi zu con le persone con i verbi di movimento mentre bei quando ho dei verbi di posizioni se sono dallo psichiatra se sono da qualcuno dovrò dire bei dem quindi bei em vediamo i nostri traduttori perfetto mette zum psychiater quindi abbiamo 19 finora per dippel e anche per cia gtp un altro punto quindi 17,5 tra gli errori grammaticali abbiamo però anche le congiunzioni di coniunzioni quindi soprattutto quelle che poi introducono le nebensezze in tedesco allora una frase sbagliata come questa die krankheit brach aus quindi si è diffusa la malattia e poi uno inserisce wenn du kas zu studieren begann cosa vuol dire questo wenn è veramente wenn non è che la malattia si diffonde tutte le volte che se voglio dire quando nel passato quindi quando la zona viene una sola volta uso un'altra congiunzione di tre lettere che comincio con a che non è wenn qui anche qui ancora l'inglese che purtroppo ci fa sbagliare ma è als die krankheit brach aus quindi quando il verbo è il passato tendenzialmente si mette als solo quando si ripete l'azione ma non è che uno inizia a studiare tutte le volte non è in un momento preciso nel passato poi finisce e quindi devo usare als als lucas zu studieren begann vediamo il nostro chagg tp no vediamo prima dip allora vediamo prima la soluzione la spiegazione als quindi significa quando una sola volta nel passato quella volta in cui allora quando potrei anche dire mentre then si usa quando appunto nel passato c'è una ripetizione cosa che non avviene qua perché non abbiamo elementi che ci fanno capire che l'azione è ripetuta dippel di krankheit brach aus als lucas zu studieren begann bene ha usato als quindi arriviamo a 20 punti mentre per chagg tp abbiamo anche als quindi un punto arriviamo a 18 e mezzo ecco provate a correggere questa frase questo è un errore che viene fatto sempre è il che è il che italiano che in tedesco non è purtroppo relativo correggetelo per favore magersucht ist eine krankheit ecco che che concerne le ragazze ecco che il quale la quale non può essere das quante volte l'ho letto ma può essere soltanto un pronome relativo che in tedesco appunto è come l'articolo quindi magersucht ist eine krankheit di perché di krankheit la malattia di mitten betriff che coinvolge ragazze le ragazze la quale quindi è un pronome relativo quindi ricordatevi che das non è mai il pronome relativo quindi quando in italiano abbiamo il quale la quale non possiamo mettere il das ricordatevi ecco vediamo un po' come viene tradotto da come viene corretto meglio da dip magersucht ist eine krankheit di mitten betriff bene arriviamo a 21 mentre per quanto riguarda charge tp magersucht perché i motivi per i quali non è mai vael ma è sempre soltanto chi lo sa e certo wesalp o varum è come nelle domande indirette wesalp jemand an magersucht leidet ci sono molti motivi per cui per i quali e poi abbiamo la subordinata quindi con il verbo alla fine vediamo come viene risolto questo problema di grunde varum certo varum o wesalp hanno bene qui addirittura cambia anche il verbo alla fine ma potevamo lasciare l'aid e andava bene quindi arriviamo a 22 per dippel per charge tp abbiamo anche varum perfetto un altro punticino quindi 20 e mezzo per charge pt ecco questo è un altro tipico errore che si vede spesso che non bisogna fare è il se che non viene tradotto con ven quando una domanda è in diretta ma con bravi con op ich weiß nicht ob mehr jungen oder mit mädchen von magersucht betroffen sind quindi in questo caso non dovrò usare wenn perché wenn è se nel senso di nel caso in cui quando è un'ipotetica ma quando è una frase dubitativa non so se è sempre soltanto op non è mai wenn mai mai allora vediamo come risolve il problema dippel bene vabbè corregge anche la doppia s poi io l'avevo anche l'ho messa ma come sapete in svizzera si possono scrivere sempre due s invece della schaffes s come si dice e poi corregge op vediamo charge pt quindi arriviamo a 23 per dippel charge pt ecco anche lui mette op perfetto un punto arriviamo a 21 e mezzo arriviamo a una nuova categoria la categoria della negazione allora fa parte la grammatica comunque la frase sbagliata è questa si können nicht diesen text verstehen è la posizione di questo nicht dove si colloca nicht nelle frasi ecco nicht si colloca normalmente dopo i complementi diretti quindi complementi oggetti complementi di termine ma anche dopo i pronomi quindi non nicht diesen text ma si können diesen text nicht verstehen quindi ricordatevi di mettere nicht dopo i complementi diretti che sono il complemento oggetto il complemento di termine gli avverbi però non quelli di devono essere quelli di tempo invece precede aggettivi e verbi con preposizione però appunto non di tempo vediamo vediamo come risolve il problema di correttamente siccome diesen text nicht verstehen addirittura dà anche un sinonimo se nicht in der Lage diesen text zu verstehen quindi col sinonimo nicht va prima il complemento con preposizione un punticino arriviamo 24 e c'è gbt anche lui mette correttamente il nicht dopo il complemento oggetto benissimo un punto arriviamo a 22 e mezzo un altro errore con la negazione è quella che vediamo a monitor evidentemente non si può dire nicht ein lo sapete la negazione di un articolo indeterminativo non si fa col nicht ma si fa con benissimo col kein mettete davanti una k davanti a ein ich habe kein Buch gekauft ma anche se non abbiamo l'articolo bisogna mettere il kein perché ne diamo anche un sostantivo senza articolo quindi ricordatevi che la negazione di ein non è mein nicht ein ma è soltanto e solo kein corregio correttamente dippel quindi un punto arriviamo a 25 chat gtp arriviamo vediamo un po' esatto anche lui kein Buch quindi 23 e mezzo un punticino anche per chat gpt un'altra categoria è quella di mettere appunto la parolina su sempre l'ordigra grammatica ich finde es richtig auf die kalorien e qui ci vuole zu achten ecco qui la frase corretta dovrebbe essere appunto ich finde es richtig auf die kalorien zu achten qui ricordatevi appunto che ci vuole sempre la particella zu prima di determinati verbi o espressioni quindi questa era la spiegazione della categoria cia gtp faccio fare questo esempio quindi la frase sbagliata è er könnte in eine klinik qui hanno messo chiaramente zu sbagliato perché il modale non ha mai zu quindi devo dire er könnte in eine klinik gehen quindi ricordate i modali non hanno zu i modali ma anche i verbi di movimento gehen fahren laufen i verbi lassen anche i verbi di posizione non hanno zu ecco vediamo come Dippel risolve il problema er könnte in eine klinik gehen non mette zu benissimo quindi arriviamo a 26 punti un punto e per quanto riguarda cia gdp anche qui un punto quindi arriviamo a 24 e mezzo ottimo anche un punto per chat gpt stessa categoria di errore anche qui col verbo beginnen devo sempre mettere zu nell'infinitiva er began im merchpot qui manca zu se abbiamo due verbi dovrò metterlo due volte quindi la frase corretta er began im merchpot zu treiben und auf seine ernährung zu achten poi normalmente devo mettere anche la virgola non è sbagliato non metterla oggi con un'ortografia ma è meglio quindi ricordatevi che beginnen richiede l'infinitiva con su vediamo i traduttori mettono entrambi i verbi cia zu benissimo quindi un punto arriviamo a 27 cia gpt ecco non mette la virgola però mette zu e quindi va benissimo arriviamo a 25 e mezzo quindi 27 a 25 e mezzo la nuova categoria grammaticale è quella dei verbi della coniugazione dei verbi quindi tempo ma anche modo quindi per quanto riguarda appunto i tempi verbali ma anche per quanto riguarda i modi come il congiuntivo l'indicativo eccetera allora la frase sbagliata è la seguente ecco qui c'è questo lasen che è un preteto e poi abbiamo bildete ich mir ein meinung darüber come si corregge la frase allora dobbiamo correggerla con un plus quanperfe perché quando abbiamo un agdem dobbiamo avere un tempo antecedente quello della principale c'è una regola appunto grammaticale e quindi se abbiamo il preteto nella principale dovremmo usare il plus quanperfe che qua non è stato usato quindi nachdem dir montere ich einen text gelesen hatten bildete ich mir eine meinung darüber oppure avrei potuto anche mettere il perfect nella principale no nella subordinata e il presente nella principale questa è la seconda possibilità qui abbiamo la correzione perfect perfect quindi non ci siamo questa volta di pelato patto niente punti vediamo c'ha gpt c'ha gpt ecco benissimo guadagna un punticino benissimo qui siamo a 26 e a 25 e mezzo per è in rimonta c'ha gpt allora qui abbiamo sempre i verbi questa volta parliamo di congiuntivo men lucas my phone give you a reason vere e poi nella principale c'è un problema abbiamo questo word più questo participio quindi la frase è sbagliata avremmo dovuto avere ette ich mit ihm gesprochen questa sarebbe la frase corretta o mettiamo tutto al passato del congiuntivo avrei parlato con lui oppure mettiamo tutto al presente quindi se luca fosse il mio amico ven lucas mein freund vere würde ich mit ihm sprechen c'ha gpt no dippel corregge ven lucas mein freund vere würde ich mit ihm reden qui cambia reden ma poi nell'alternativa lascia anche sprechen quindi va bene un punto quindi arriviamo a 27 mentre per quanto riguarda c'ha gpt addirittura mette il passato quindi l'allievo voleva esattamente dire questo ven lucas mein freund deve eserlo e mette ich mit ihm gesprung sicuramente il punto qui è tutto guadagnato perché è esattamente quello che vuol dire l'allievo però anche dippel tiene il punteggio di un punto perché effettivamente è corretto anche la sua versione non può chiaramente conoscere il contesto dell'intero testo perché non gliel'ho fornito o gliel'ho fornito solo a pezzettini invece c'ha gpt probabilmente ricorda anche le frasi precedenti e siamo arrivati alla categoria della punteggiatura interpunzion sei fin zezo vediamo la frase sbagliata meiner meine non na eccoci questa virgola di troppo e poi c'è questo alzion che è di troppo ma ho sbagliato io a riscriverla ecco la frase corretta è meiner meine non na non c'è più questa virgola leid me jungen alzion alzion punto quindi non c'è la virgola dopo il complemento in tedesco la virgola si mette tra la principale e la subordinata ma se inizio con un complemento un sintagma nominale non metterò mai la virgola non durante le vacanze virgola no in tedesco non c'è mai questa virgola quindi soltanto per separare la principale la subordinata diciamo per quanto riguarda la frase poi evidentemente in molti altri casi allora vediamo come dippel appunto risolve il problema toglie la virgola benissimo e chagpt ecco toglie la virgola benissimo quindi sono entrambe corrette arriviamo quindi a 28 punti per dippel e a 27 e mezzo per chap gpt l'ultimo esempio è quello della punteggiatura ancora eskipte zwei grunde due punti ecco quando in tedesco abbiamo una frase der erste grunde hat e poi va avanti ecco purtroppo non è come in italiano dobbiamo iniziare con la maiuscola in tedesco quindi eskipte zwei grunde der erste grunde ist der erste grunde hat mit das und das zu tun ecco solo se ho un elenco per esempio di aggettivi rimane il minuscolo ma se ho una frase per esempio principale o subordinata eccetera dovrò appunto iniziare con la maiuscola quindi se si comincia un periodo in tedesco dopo i due punti si inizia con la maiuscola mentre per quanto riguarda un semplice elenco di aggettivi questo no è in minuscolo vediamo se dippel corregge correttamente certo vedete la maiuscola cialgpt anche corregge anche lui quindi siamo arrivati a 28 punti per dippel e 27 e mezzo per cialgpt beh io penso che a questo punto una mezza risposta non può far vincere un concorrente rispetto all'altro io penso che entrambi sono vincitori 50 per cento dippel 50 per cento cialgpt entrambi hanno diciamo le stesse potenzialità con alcuni vantaggi magari uno rispetto all'altro che possiamo dire abbiamo fatto il confronto di questi due strumenti di correzione che in realtà solo dippel il primo è un poter essere correttore fa anche da correttore cialgpt è una chat e ti permette anche appunto di correggere testi ma glielo devi chiedere qui da un punto di vista pratico c'è proprio una differenza di modalità di correzione con dippel inserisco direttamente nel riquadro specifico e mi fa la correzione invece cialgpt ogni volta devo dire mi corregge questo testo in questo modo solo l'ortografia solo la punteggiatura oppure correggimi tutto però poi mi modifica completamente il testo quindi c'è proprio un modo di cialgpt devo anche saper chiedere molto bene quindi mi devi correggere l'ortografia e l'errore di grammatica in modo che il testo rimanga il più possibile simile a quello dell'allievo altrimenti me lo cambia completamente cialgpt inserisco nel riquadro correggi e mi corregge il testo anche lì ho quattro modalità per diciamo correggere ma normalmente non cambia molto per quanto riguarda la variante semplice poi per quanto riguarda cialgpt che le pone a suo favore è il fatto appunto che posso dialogare quindi arrivare a una soluzione magari più vicina a quella che richiedo quindi dippel il vantaggio sono le varianti quindi la versione che propone poi anche le varianti adesso qua ne vediamo solo tre ma ne posso avere più di una poi basta che clicco sulla parola e posso averne altre e invece con cialgpt posso instaurare appunto una conversazione e arrivare quindi io penso che entrambi gli strumenti sono validi e sono utili per gli apprendenti quindi di una lingua due e secondo me dovrebbero utilizzarli in maniera complementare quindi entrambi magari anche confrontando le proposte quindi sia quella di dippel che quella di cialgpt e questo secondo me potrebbe rappresentare per gli studenti un modo nuovo di anche imparare la lingua no capendo meglio quali quelli che sono appunto i punti di forza di uno strumento e poi anche usarli in base appunto alle proprie esigenze quindi sicuramente cresceranno ancora ma cresceranno anche gli allievi che lavoreranno con loro